oh signori scusate che devo fare una cosa ok benvenuti benvenuti in una puntata di questa serie di questa puntata insomma nuova live su Grand Prix Manager 22 io so un attimo la situazione un po' così porca miseria ok no non devo fare niente di tutto questo porca miseria non devo eseguire niente in background allora mentre intanto mi faccio un po' di cosa allora qua si è messo robe che non volevo ah ok adesso devo fare una cosa cosa ma vedo robe vabbè mi sa che mi sono dimenticato di fare la stories quindi mi sa che la farò live con voi allora 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 signori io sono già live 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 formula manager 22 22 monaco signori io sono gelato no e abbassati abbassati volume e adesso e adesso va fammi mettere linko e contro linko linko e contro linko ok va bene e quindi form 1 meno 22 e si e va bene e andiamo e andiamo ammett io sono dimenticato una cosa ma va bene va bene va bene signori va bene va bene va bene mentre faccio le robe mentre faccio dico dico e faccio faccio dico faccio e dico robe mentre faccio e dico robe mi do benvenuto io intanto devo fare una roba perché per una roba che devo fare se me la fanno fare se me la fanno fare mentre ricerca allora fra una settimana completano la ricerca sul telaio fra una settimana uh attenzione è già interessante se completano la ricerca ma che sei benvenuto come va ma che sei come va che mi racconta di bello che mi dice di bello signor ma che sei che mi racconta di bello mentre vabbè non me deve essere io sto qua ma mi sono bloccato male con questo con forma 1 manager 2022 perché mi sono bloccato male perché ha tanto tempo che volevo giocare un gioco di di corsi formula 1 manageriale dove avevano provato 1 per pc tanto tempo fa tanti anni fa che mi ha divertito un botto perché perché si mi ha divertito tantissimo e adesso ok adesso mi ritrovo qui a oh simon ma non buonasera buonasera a lei non rimango in supporto va bene va bene rimanga poi può solo far piacere può solo che farmi piacere che mi racconti di bello tanto faccio così faccio cose parte robe infatti saluto ovviamente anche a buon manuel il buon manuel bianchi e poi e poi e poi io faccio devo fare una cosa ok a posto a posto ora scusate un attimo e qua c'è l'acqua però questa è poca sia un matsuya benvenuto caro benvenuto a lei come la va arrivo subito scusate un attimo grazie a tutti 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 ok eccoci eccomi 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 allora signori gran premio di monaco ci troviamo qua su un gran premio che potrebbe per noi rappresentare una grande occasione o una grande agonia e vedete come ci girano le cose è un gran premio tecnicamente difficile come sapete è un gran premio che lascia poco spazio ai sorpassi è un gran premio che se per qualche arcano motivo ci va a piovere diventa una Royal Rumble io ricordo io ricordo un clamoroso un gran premio di tanti anni fa vinto da Olivier Panisse Olivier Panisse da un Olivier Panisse che si è ritrovato a vincere tanti anni fa un gran premio in Monaco con sole tre macchine che erano riuscite a tagliare il traguardo tre su 21 22 quante 21 22 macchine quante 20 22 macchine quant'erano hanno tagliato il traguardo in tre semplicemente perché quel giorno in quel momento durante la gara stava piovendo quindi pensate un po' voi allora andando a noi andando a noi direi weekend di gara sì ok tutto molto bello gli interessa poco a noi ci interessa la gara allora progressi p1 allora ora io per questa puntata io ormai andiamo avanti porca mia dovevo fare prima possiamo andare avanti con Latifi però al posto di un Latifi che ne serve a poco ci metto il collaudatore il collaudatore ci faccio andare il collaudatore assetto auto e madre santissima allora mi sembra ok 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 però facciamo ok così sì ok e però questa e allora poi ok direi così direi così direi così direi così direi così per quanto riguarda invece il buon ok allora tembe come come stai messo stai messo male stai messo male ok madre sentite devo ripartire ok ok facciamo così però nei rettilinei rettilinei aspetta un attimo aspetta che qua c'è un parametro ecco andiamo così e poi ok ok viene così oh emris benvenuto caro come va come va che mi dice di bello signor emris che mi racconta di bello ora andiamo un po' io l'unica cosa l'unica cosa vorrei capire allora andiamo dietro andiamo dietro io voglio capire un attimo una cosa informazione di circuito allora previsto 23 gradi venerdì 23 sabato 20 domenica abbracità tracciato scarsa indice storico safety car 67% quindi quasi sempre c'è una safety car ecco strategie previste vediamo un po' sono tutte sono tutte sul pit stop singolo allora vale ma noi non vediamo come non vedete ah porca mi si è bloccato scusate 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 si è bloccato qua aspettate che la schermata è fissa ok ma avete ragione hai ragione grazie per avermelo segnalato ora per un attimo vedrete me probabilmente ok attraverso queste barre poi rimetto qua e dovrebbe e dovrebbe e dovre e che cazzo sango dovrebbe dovrebbe non dovrebbe che cosa succede per quale caspita di motivo ok attivo qua ok cosa succede ah no non so scusate ah porca miseria ci mancava solo questa ci mancava solo questa ci mancava solo questa ci manca scusate un attimo eh andate un attimo allora caro coso caro allora tu tu dove sei dove sei dove ti sei tanto sì tanto io te no questa è la realtà è la guerra scusate un attimo ah scusate perché lo scusa scusate non so se parca di quella miseria perché oggi è stata una bella giornata oggi ho avuto anche un incidente in auto ragazzi ho avuto un incidente in auto e niente di che non mi hanno fatto niente un gran danno magari mi sia tutto questo dovremmo passare tutto il pomigio là tanto mettiamo così se dovrebbe dovrebbe essersi ok vediamo se si è ripreso adesso scusate scusate un attimo allora a scene no fonti allora questa è la cattura video mia cattura video 2 ok vediamo un attimo ok ora mi passa così vi passo di qua oh dai a posto a posto boh signori a posto a posto 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 ci siamo ok è vero che funziona perfetto prestazioni mescolate tempo perso causa degrado ok 06 0 ok va bene allora strategie previste funzia si funzia si allora prestazioni competitive da 13 a 23 a 21 a 29 ok allora c'è da decidere c'è da decidere la strategia e sono tutte possibili sono tutte su un pit stop allora allora strategia dal 30 al 36 quanti giri sono 78 giri strategie previste ora ci ragioniamo bene tutti quanti assieme da morbide dure medio dure dure morbide allora su una sosta va bene il problema è capire quale delle tre ognuna delle tre ha un senso volendo al massimo quella che può rappresentare maggiore senso cioè non lo so qua questo caso veramente ognuna delle tre strategie ha un senso ha senso la prima per partire forti alla partenza magari guadagnare qualche qualche torpasso principi giri poi mantenere con le dure secondo una cosa intermedia dell'iniziare media nel senso non forte ma un po' così a metà e poi andare con le due fino alla fine come ha senso iniziare con le dure per un bel po' per poi farsi un ultimo stint con le morbide ha senso tutti e tre gli approcci ora abbiamo un tracciato con scarsa abrasività e questo l'abbiamo capito scarsa abrasività del tracciato abbiamo intanto abbiamo visto ok abbiamo scarsa abrasività al tracciato abbiamo temperature non altissime ma neanche bassissime abbiamo tutta una serie di cose e io direi andiamo così simuliamo la sessione le prove onestamente le simulerei non ci perderei tanto tempo onestamente sulle prove se mi vedete guardare da questo diciamo da da questo lato qua la mia mia finistra voi vedete destra è perché qua c'ho il pc c'ho il pc guardo voi in chat ecco questo comunque prove completato vediamo un po' i tempi allora album meglio di di stroll nelle prove 1-15-8 teo pur 1-16-1 vabbè è il collaudatore va bene è il ragazzetto ci può stare sviluppo il 500 va bene va bene va bene va bene va bene va bene poi seconde prove vediamo un po' la situazione a fiducia 60 eeeh 47 ma si è ammessi così male allora io qua grande quindi quello è quello che ha meno bisogno di cambi bene qua c'è male addirittura male bene bene male ora io farei così vabbè eeeh Latifi Latifi ok ok album addirittura 47% fiducia cioè proprio proprio non schife proprio c'è una roba che dice ma mamma che me lo fate che mi fate gare già fa c'è proprio una roba del genere proprio allora qua veniamo così però se però se cos no ok però allora faccio no è uscito è uscito è uscito un disco vabbè è uscito per sbaglio il disco che aveva gran tonico usate vabbè non mi lo rimetto perché rischia di di aprirsi cose che non deve vabbè poi ce lo rimetto dopo allora eeeh male i due male male è grande però grande così non ok allora ok 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 facciamo così così io proverei così proverei così proverei così l'ha mantenuto sto sì proverei così vediamo un po' ora la tifi vediamo cosa fa allora simula sessione vediamo che fa la tifi vediamo che fa la tifi 1.16.1 aveva fatto eeeh tu c'è la il francesino il collaudatore aveva fatto 1.16.1 la tifi ha fatto la stessa identica cosa anzi forse qualche centesimo in più addirittura di tempo album 1.6 1.15.6 più o meno lì non è cambiato non è cambiato granché fiducia l'assetto adesso 75% abbiamo un po' ribaltato la cosa 75% fiducia albon sì ok tutto molto bello comunque allora prove 3 ma vedremo mai un gran premio sotto la pioggia io non lo so finora finora niente allora la tifi la tifi mi chiamare addirittura le tirini male male addirittura perfetto eh ok e qua ok grande grande bene eh ah no migliore migliore in che senso è migliore allora diciamo così vettura male e vabbè la tifi io la tifi amico mio io non so che cosa che cosa ti aspetti da me la tifi io non so che cosa ti aspetti da me vabbè la tifi la tifi è senza la tifi la tifi come al solito senza speranza allora mentre mentre allora bene grande quindi sempre grande 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 come te sei grande solamente tu sei così grande sei ok però no ecco così ok eh sì però aspetta ok porca allora diciamo così ok eh grande bene ok io così 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 proviamo così proviamo così proviamo così vediamo un po' allora prove tre timo la sessione vediamo un po' vediamo un po' come vanno faccio gestire a loro come i tempi sono migliorati uno è peggiorato di un decimo la tifi ne parliamo 136 la tifi la tifi la disperazione allora 77 79 vabbè siamo siamo lì allora la tifi la tifi la tifi la tifi vabbè la tifi è senza speranza ma lo sappiamo ora adesso è il momento delle qualifiche allora 77% bene bene perfetto ok ora faccio perfetto quello bene ma ok aspetta ok faccio no porca allora ok però devo riportare eh si però poi ci sta no allora senti ripristina effetto di miglior miglior di ok quindi bene bene tutto bene ma ok allora direi ok ok quindi però la stabilità infrata perfetto la tifi no senti allora ripristina aspetto la tifi va bene così la tifi va bene così la tifi dai ok allora bene grande bene allora io quindi farei farei però farei farei così però quel farei così però i guerretti voglio cercare di rimetterlo ok voglio che i rettini vorrei cercare di rimetterlo in cercare di rimetterlo in così così ma ok ok diciamo ok però grande però grande aspetta ok così proviamo così non è è piccola modifica ma va bene proviamola ok avviamo le qualifiche avviamo le qualifiche magari adesso le gestiamo noi adesso le gestiamo noi e andiamo allora r1 subito va in pista vai fisi ok latifi e aspetto che esca ok vai latifi vai latifi vai latifi ok però ok concentriamo su albon che è l'unico che 2 che ha la vaga speranza di andare in q2 ma addirittura beve beve come caratterist come come richieste mi hanno chiesto la q3 la q3 non non arriviamo a qualificarci non arriviamo alla q2 neanche a piangere ci chiedono in sponso la q3 ma ma veramente immaginate voi la q3 vado in giro metti earth benzo tutto aggressivo hai ragione però allora conferma allora ritmo che ritmo ah è tutto carbonato tutto earth potenza tutto e anche latifi latifi si manuale ritmo tutto poi tutto poi pure potenza tutto aggressivo si stefan jeres benvenuto benvenuto infatti c'hai ragione io lascio fine automatico ma in effetti è meglio che vado così che lo faccio io in posto a in posto a bestia allora allora dai che magari magari così aggressivo dai allora però adesso vediamo un po' allora magari così ok dai dai prego un giro così vediamo un po' vediamo un po' vabbè albon adesso giustamente viola perché teoricamente è primo in questo momento ma perché è l'unico a parte latifi è l'unico a scendere in pista quindi insomma essere primo temporaneamente è anche abbastanza fragile facile il problema è che poi scendono in pista gli altri quindi capite anche voi allora intanto mi metto un po' di caldo olè allora quindi 1 13 e 2 allora va bene 1 13 e 2 ho fatto con albon latifi dietro a mezzo secondo quando noi avevamo fatto 1 e 15 vabbè oh tipo due secondi due secondi più due secondi meglio delle due secondi e passa meglio delle delle prove libere oh vediamo eh vediamo anzi facciamo una cosa stiamo vediamo un po' così beh telestroll già ci sono davanti bene benissimo mettere strollo ci sono già davanti le clerche vabbè manco stiamo a dirlo niente non 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 è servito a granché ricciardo è dietro ricciardo è dietro emilton è dietro vabbè si emilton è dietro si vabbè ah io al massimo io intanto riconfiguro conferma latifi riconfiguro sempre con questi e conferma ok va bene ora e come sto messo e sono tutte due dietro devo andare devo andare per forza e per forza 5 però riconfigura scusa un attimo eh posso riconfigurare appena run di più giri tipo ah questo ok ok piano run posso per un piano run che non sia di un giro solo to ce la faccio a farne due di giri lanciati magari tre magari tre oh dai conferma eh questo albon poi latifi riconfigura riconfigura con piano run tre giri conferma dai oh e allora albon ritorno in pista poi ora latifi e vai ritorno in pista anche latifi e adesso torno su album perché latifi è senza speranza allora 4 e mezzo voglio almeno tre giri bel piano che bello dai 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 insisti scelti allora ok poi ho fatto album ok album è in giro quello ok va bene ok fam orca mi te allora album 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 come si stanno riscaldando e soffieci di sopra che si urwin dice si le gomme si stanno riscaldando si anche la si stanno riscaldando vabbè albon devi insistire vai albon sempre comunque ci dimentichiamo sempre la q2 è proprio la q2 manco 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 vabbè è ok niente q2 la q2 ce la dimentichiamo dimenticare dimenticare la q2 levati dai agno ma per quelli la ma perché non non si levano dal ma è che deve farmi una tappo per fuori vabbè niente e niente album è finita per album è finita per album è finita non so se la tv fa qualcosa ma album album c'è il tappo davanti e quindi purtroppo così è vabbè album ti prego ti prego album dai album a me non capisco i tempi non mi da neanche i tempi rego niente non mi da nulla tutto nero non esistono i tempi di album sono neri fantamente schifo che neanche il confronto fanno benissimo e niente però siamo sempre vabbè giallo giallo la tv come è combinato vabbè non miglioriamo ma manco per il campo però intanto magari magari un altro un altro un altro giro si fa dai 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 effetto giallo giallo per per album niente non andiamo secondo settore secondo settore secondo settore secondo settore secondo settore niente non ce lo dicono nemmeno giallo vabbè niente abbiamo capito l'abbiamo capito forse era meglio che lasciavo gestire l'autonomia fine sessione niente allora addirittura finiamo penultimi e ultimi ultimo e penultimo ultimo e penultimo disfatta vabbè vabbè era meglio se lasciavo gestire automatico vabbè vabbè allora io direi gara ora dobbiamo gestire le tattiche le tattiche le tattiche semplare ok scusate 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 interruzione allora allora strategia io allora io dirò per la tifi provo a puntare proviamo una tattica alla steven bradbury ti va di dure ritardiamo la sosta e speriamo che gli altri vadano a sbattere tra di loro tattica alla steven bradbury allora per quanto riguarda quindi la tifi tattica la tattica la steven bradbury per albon allora sono tutte e tre tattiche che hanno un senso perché io c'è io sarei più per il dai e forte iniziale magari si spera in un bello sprint iniziale magari anche se e poi andar di dure oppure atteggiamento un po via di mezzo resistere un po di più ritardare un po di più però con le medie vuole tattica uguale uguale a quella di di la tifi allora il fatto è questo i sorpassi sono praticamente sono difficilissimi se non praticamente impossibili qua almeno circuito reale così io proverei proverei partì forte partì forte per poi andare di per poi andare andare di durata vedere un po e vedere un po insomma semplicemente vedere un po ora anche se non sapete che c'è faccio la stessa cosa vado ridurre con tutte e due mi durano tutte e due e ok puntiamo a ritardare il più possibile l'entrata i box anche se partiremo le dure caspita se c'è una safety car son con vabbè calma albon vediamo se albon parte parte guadagna qualche cosa no siamo sempre lì albon ah dammi albon diamo albon e niente e niente siamo sì però la tifi se ti metti a fa si sorpassi ho visto un albon compenetrarsi col muro però bene non è andato bel tentativo cosa la tifi la tifi la tifi Latifi La tifi con tutto al received con tutto le menti metti a fa' la gara qua qua albon ti mette a fa ti mette a fa' la gara niente cazzo sangue allora albon 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 Fai di aggressivo Fai di aggressivo Albon Spingi, spingi un po' Spingi un po' Albon Spingi un po' Spingi un po' Magari Qua dobbiamo andare in strategia E di azzardo Fondamentalmente di azzardo E' quello discorso Dobbiamo azzardare un po' E azzardare un po' E vedere e aspettare Che succeda qualcosa Perché qua i forpassi Sono difficili Sono davvero 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 Difficili Per il resto vediamo un po' Allora Albon 1,7 Stroll Il problema poi Teoricamente Ci dovrebbe essere Le zone con il DRS In realtà Vabbè Dai Da Tifi Con la Tifi Punto Non lo so Veramente Da Tifi Con la Tifi Punto 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 La Tattica Alla Steven Gregory Cioè Aspettiamo che caschino Gli altri Magari Non lo so Vediamo Allora 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 Sovvettere Potrei andare Anche di potenza E c'è Però Il DRS è attivo Ok Dai che col DRS Magari Magari Col DRS Magari Magari Non lo so Cosa Perché mi pare Un sorpasso Mi pare difficile Però Comunque Il consumo Di le gomme È uguale E uno E Albon C'ha il ritmo Aggressivo Mentre La Tifi C'ha quello standard Il consumo Di le gomme È uguale Soltanto La Tifi Sta consumando Meno In benzina Al momento Allora Un po' Io voglio provare A vedere Se riesce a superarlo Se no Trovo una spinta Con la RS Ma Problema Allora Intanto voglio vedere Prematici Allora Noi E E E E E E E Aston Martin Siamo con Le dure Ricciardo pure Con le dure Schumacher C'ha le morbide Su Noda C'ha le morbide Loro Fermeranno Prima Magnussen Fermerà Tanto Prima Tanto Prima E E Poi E Poi Porca Miseria Allora Vai Albo Però Il problema È che Stanno Facendo Questi D'atacco Intanto Gli altri Vanno Via Intervallo No Allora Albon E No Dorpasso No Che tu difesa No Su Sorpasso Su Sorpasso Su Sorpasso Sorpasso Su Sorpasso Dai Che Albon Prova Sorpasso Albon Devi Devi Provare Perché Devi Prova Sopera Questi Sennò Poi Gli altri Non li Riprendi Più Vai Albon Il problema È che Qua Sorpasso È Difficilotto Sorpasso Vai Albon Vai Albon Dai Niente Il problema È che Allora Dai Albon Dai Albon Il problema È che Non Dove C'è Di Dove Dove Può Superare Dove Può Superare Da Nessuna Parte E Da Nessuna Parte Ok 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 No E Ci ritroviamo Ci ritroviamo Col Tappo Che calma Vedete Perché Volevo Portare Volevo Provare A partire Con le Con le Morbide Adesso È più difficile Già Già Che È Bello Difficile Superare Quindi Figuratevi Adesso Drs Dai Dai Drs Dai Niente Porca Ok Niente Non Non Dai Che Dai Albon Niente Porca Miseria Niente Al passo Non si Può Fare Non si Può Fare Non si Può Fare Neutro Non Non ce La fa Posso Mettere Cresivo Quanto Voglio Ma non ce La fa Ok Vuole Tipo Cambiare La strategia Ok Allora 21 C'è Nuvoloso 40 4 minuti 40% Di Possibilità Di pioggia E O E Umidità Non lo so Ma Niente Con Unione Osa Rimane Che Continuiamo A Per Pallo 92 93 Siamo Lì Siamo Lì Il nostro Albo Sta Ne sta Consomando Di più Le gomme Perché Perché Sì Ok E No No E Complicata La cosa E Forpassi Non 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 Ce lo Possiamo Scordare Forpassi Possiamo Soltanto Magari Allora Comunque La tifi Senti Tanto Il consumo È lo stesso A sto Punto Vai A sto Punto Vai Vai Anche tu Aggressivo Magari Ritorni Sul Ritorni Sul resto Del gruppo Accorci La tifi E Vabbè Ultimo Sei Secondi Ok Allora Diciamo Sto Sto Trenino Sto Trenino Allora Allora Così Così Allora Niente Siamo Sempre Toliti Il gire Tolite cose Nel campione Non è che Stiamo Risultando Entusiasmante Nel senso Ora Noi stiamo Così Fra un po' Dorebbero Arrivare Le soste Ibox Dei altri Ma noi Per un po' Ne abbiamo Magari Albon Provo Non lo so I sorpassi I doppiaggi La tifi Ma Qui i sorpassi Fai solo i box E Lo so E lo so Io per questo Sto cercando di Sto cercando di Di Punto ai box A cercare di andare Più possibile Tardi Ai box E' l'unica cosa Che posso Cercare di fare Mentre Comincio Il gire ai box Ma Siamo talmente Dietro Virtua safety car Cosa è Virtua safety Sì 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 Copi Ok Allora Però ignora Ignora Ma per un solo motivo Eeeh Sembra ci sia un incidente Ferma Vediamo l'incidente Qui possiamo vedere La mercedes Allora Boom E' la giustamente Safety car Con 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 la nostra Insta Ok Ok Però se stava Fermi Fermi Virtua safety car A che punto siamo noi Allora Presto E' presto E' presto E' presto per tentare qualcosa E' presto E' presto E' presto per tentare qualcosa E' presto E' presto E' presto E' presto per tentare qualcosa Perché anche andiamo Anticipando i box Devo comunque utilizzare Un treno di gomme diverso dalle dure E qualsiasi treno di gomme Diverso dalle dure E Donarli Non ci arrivo comunque alla fine E' troppo presto E' troppo presto E' troppo presto Ora 6-8 Si dovrebbero accorciare i tempi Ma invece perché si sono allungati Si sono allungati i tempi Non so perché Calma Ok Ah qui vanno tutti i box Io ripeto Per me box Per me box è inutile adesso Per me box Adesso non mi serve a niente C'è forse un po' più avanti Che dici Allora se faccio il cambio Invece di farle morbide Vado alle medie E ci arrivo alla fine Ok Ma così Tra l'altro in tutto questo Non sto guadagnando niente Serticar ha finito E vabbè E vabbè Allora Album Ok Tutto questo Sono ancora più intervalli Ok Ok Eater 2 secondi e 6 Da Allora 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 Per quanto riguarda Te Potenza Latifi Erse Potenza Vai Recuperate 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 Dali potenza Cerchiamo di Che andare E Adesso Ritmo Ok Quindi Il monitor Continua a monitorare Le gomme Vediamo un po' E Riesi Sul riscaldamento Per no Vabbè Con Latifi Dai Allora E Qua Vabbè Torniamo lì E torniamo alla situazione E torniamo fondamentalmente Alla situazione di prima Torniamo fondamentalmente Alla situazione di prima Album Fondamentalmente Si va a riprendere Stroll Niente Qua Vabbè Qua Gran parte del Gran Prendeo Te lo fai Te lo fai Nelle qualifiche Scusate un attimo Scusate un attimo Grazie a tutti 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 Torniamo a noi Torniamo a noi Torniamo a noi E Alla nostra Ok Alla nostra situazione Allora Album E si è incastrato Torniamo a noi Torniamo a noi No Torniamo a noi Scusate Torniamo a noi Così 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 Allora Allora Vabbè, siamo montati a finestra del box. Che cosa ci possiamo fare? Allora. Beh, non è che, allora, mettiamo più, mettiamo un po', questo sta andando, vabbè, amen, diciamo che non è che c'è molto da poter fare, siamo, non ci sono sorpassi a poter fare, non c'è niente, c'è, c'è la tristezza, stroll ce l'abbiamo dietro, bene così, ma soltanto, è solo una pia illusione, stroll dietro di noi è solo una pia illusione, io direi, allora, Latifi, opzioni box, vai di morbide, va bene, no, box questo giro, dai, poi, album, box, 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 si, box, 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 sto, e qua, vabbè, è andata come è andata, data come è andata, ah, va bene, дома, box, 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 portico, no, non lo so, no, 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 non lo devo annullare, ci rotti male, no, per ora no, Allora Dovrei giusto Vedere se È d'accordo Ricevuto cosa Allora io però Estroll Ciao vabbè niente Non ce la facciamo mai Vabbè abbiamo capito Dai Attiva Pzioni box Le morbide box a questo giro E andiamo Allora Attacco Tanto dobbiamo sparare tutte le cartucce con le morbide È una bella merda Da me la merda di gran premio Tant'è che onestamente sono tentato di farne un altro Perché questo non mi è piaciuto Qua non ci ho trovato piacere proprio Non Ci sta una roba proprio C'è manco Manco mamma Manco proprio Vabbè andiamo avanti Dai questo Questo diciamo che lo schifiamo eh Dai Questo ormai non sta accadendo nulla È abbastanza E si stanno riscaldando Ho capito E si stanno riscaldando Vai Allora Allora Che dobbiamo Che non prendiamoci in giro Allora Una sosta Oh Fiorgi su Buon salve Anche a lei Benvenuto Ci vuole Ci vuole la sua benedizione Per le nostre Williams Ci vuole la sua benedizione Qua Che qua stiamo facendo Un gran premio Che 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 non Non so neanche come descrivere In maniera adeguata C'è una roba Una Una roba tragicomica Una roba tragicomica Io direi Passare qua aggressivo Tanto per non Per non arrivare Quei cerchioni A fine gara Una roba veramente Tragicomica E poi Ma posso arrivare A andare a fine gara No Non posso Schippare a fine gara Perché c'è Non è che c'ha molto da dire Io Io Ne faccio un altro Il gran premio Ne faccio un altro Ragà Questo Questo non mi sta dando Proprio Non Non mi sta dando Soddisfazione alcuna Ne faccio un altro Il gran premio Arrivederci Grazie Non Non è proprio Non è proprio Ecco Semplicemente Non è proprio Non è proprio Al massimo Così Allora Ok E raga Schippiamo qua Purtroppo Non va Gran che bene Questa Eccolo Eccolo Ultimo giro Che stassi Vabbè Ragazzi Eccolo Trip Benvenuto Benvenuto La live Caro Siamo Siamo arrivati Qua In un momento Di mestizia Siamo Gran premio In Monte Carlo Con Una macchina Che non va Manca spinta Eccolo Con Mezzo pilota Abbiamo una macchina Che non va Manca spinta E mezzo pilota Perché la tifi La tifi E la tifi Albon ci mette Prova a metterci Del suo Però insomma Ultimo e penultimo Abbiamo fatto Doppietta al contrario Abbiamo fatto Abbiamo fatto La doppietta al contrario Vabbè Vabbè Siamo E anche E anche Questa volta I punti Li facciamo La prossima volta Mentre Il nostro Amico Fritz Purcer Non guadagna Punti Non guadagna Punti Però Punti Esperienza Si E andiamo Avanti Io Io sono Quasi tentato Comunque Di Allora Andiamo Avanti E-mail Che abbiamo Debriefing Poi al profilo Nicola Latifi Albon Metto un punto Di sviluppo Ah Pur scena Due Fermi Fermi Che pur scena Due Di punti sviluppo E allora Mettiamo Qui Ok Salve E poi Un altro Mettiamo pure Qua Precisione I riflessi Però In effetti I riflessi C'è In questo momento C'ha I riflessi rallentati Secondo Metti Fatto E qualcosa Vabbè Ma lasciamo stare Ma lasciamo stare Ma lasciamo stare Andiamo avanti Cosa C'è E-mail Importante Che c'è Che cosa Verifica Hai spesso Soddisfazione Hai spesso Soddisfazione Per le tue Recenti Prestazione Come team Principal Mettro Poi Della revisione Consiglio Tra due mesi Ah Grazie Sono Detto Conto Finanziario Di Maggio Abbiamo Speso L'ira Di Dio Per Aggiornare Per Aggiornare Per aggiornare Le cose Adesso Conto Sviluppo Auto Poi Lo sviluppo Componenti A Ok Nessuno Slot Produzione Ancora Non posso Produrre Niente Ok Ricerca La ricerca Te la fa tre giorni Il telaio La ricerca Sul telaio Mo la fanno Mo la fanno La ricerca Sul telaio Aspetta Scarsa Disponibilità Alettone Anteriore E posteriore Pabbo Ok Alettone Anteriore Dobbiamo Produrne Due Dobbiamo Produrne Due Allora Questo Qua Ne Produciamo Due Dai Vai Ecco Due Anteriori Dice Su Scarsi Abbiamo Scarsa Equipaggiamento Allora Così Nel frattempo Nel frattempo Allora E-mail Che cosa C'è Cosa Cosa C'è Allora Non c'è Niente Tessuna Va bene Andiamo avanti Allora Ricerca Completata Progetto Del Telaio Completato Oh Ricerca Completata Allora 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 No No L'istanti Zero Prossimo Dio Attere 21 Ah Fermi Prossimo Intanto Andiamo a Baku Azerbaijan Quindi Progetto Telaio No Ma Perché Perché Ho fatto Dice Ebbè Avete fatto Dice Posso Possiamo Produrre Nuovo Telaio Sì Ok Allora Investi Ricerca Per Migliorare Allora Precci Ricerca Completati Uno Allora Come Posso Ved Aspermi Allora Posso Posso Capir Epilogo No Devo Capire Un attimo Una cosa Perché Io Avevo Il telaio L'avevo Allora Progetto In corso Ok Ok Disponibili 5 su 6 Perché L'ho Impiegati Molto Su quello Nuovo Progetto Telaio Non Non No Non posso Un po Vabbè Allora Quindi A lettone Anteriore No E un po Allora Facciamo Facciamo Allora Te ne vengono eseguite I blocchi Detti Restrizione Ok E un numero L'ora Può Delicare I testi Aerodinamici Ok Allora Priorità Progetto Equilibrato No Raffreddamento Di prestazioni A bassa velocità Prestazioni Ad alta Velocità No Minchia No Aspetta No No Fermi 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 Priorità Aerodinamica Ottimizzata No Tenti No 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 Facciamo Equilibrato Facciamo Equilibrato Che migliora Un po Tutto Facciamo Così Impostazioni Ingegneri Facciamo Questa E' la lettore Anteriore Quindi Due Di qua Avvia Progetto Ok Così C'è una ricerca An più Ok Poi Poi Sviluppo Componenti Auto Progetto Ma posso Un attimo Produrre Quello Che Un Ricercato Che Cacchio L'ho Ricercato A fare Scusate Che Cosa Cosa L'ho Ricercato A fare Se non Vabbè Poi vedrò Poi vedo Poi vedo Poi vedo Poi vedo Poi vedo Allora Tanto Gli 25 giorni Produzione Vabbè Vabbè Io non Non l'ho capito Ma ok Non l'ho capito Ma va bene Ok Produzione Alettone Anteriore E posteriore La produzione È fatta Ok Va bene Due 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 Vabbè Sono messe Tutte là Va bene Motore Questo quanto Come è messo A Come Come siamo messi A motore Qui Allora Come siamo messi A Non Non lo Non vedo Porca Mite Non vedo Allora Scatola del cambio Non vedo Il livello di consumo Non lo vedo Vabbè Niente Magazzino Niente Vabbè E comunque Terrore Ok Weekend di gara Un giorno Andiamo Davanti A Zerba Gianna Obiettivi Allora Rivedi Obiettivi Posizione Inqualifica Giro Più Veloce Hanno Capito Hanno Capito Hanno Hanno Capito Hanno Capito Hanno Capito Hanno Capito Allora Allora Io direi Ok Assemblaggi Auto Allora Auto Uno Gruppo Propulsore Motore Visualizzo Produttori E noi Siamo Tulla Mercedes Allora Potenza Mai posso Efficienza Carbonitisi Senza Termina Durata LS Ma Ma è mai Possibile Allora 100 100 Quelle 90 Vabbè Cos'è Resistenza Sura Vabbè Chi se ne frega Resistenza Termica Ce n'ha Di meno Efficienza Carburante Ce n'ha Decisamente Di meno Durata Scatola Del cambio Ce n'ha Decisamente Di più Durata LS Ce n'ha Un po' Di meno Io Apparciamento Vabbè E Vabbè Per ora Andiamo Così Niente Vabbè Io non Riesco A capire Ho fatto La ricerca Ma non Riesco A capire Dopo La ricerca Che vabbè Comunque Han ricercato Hanno Hanno ricercato Allora Weekend di gara Davanti Vediamo Speranno Che questo Sia Diciamo Un po' Più Come posso dire Che possa dare Un po' Più Di Soddisfazioni Allora Latifi Pushera Posto Di Latifi Vediamo Un po' L'assetto 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 E Possiamo Fare Così Va bene Io direi Che va bene Così Pushera Ok Albon 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 Amico Albon Amico Albon Io però Rettilinei Un po' Più Ok Prova Sterzo Tabita Infrenata Sterzata Sterzata Per un po' Di più Trazione Ok Io farei Così Io farei Così Io farei Così Quindi Andiamo Alle prime Prove Simuliamo Così Molto serenamente Ok Per curiosità Giri Ultimo E penultimo 148 8 149 1 Ma tipo 8 decimi Dietro Perfetto Bellissimo Conoscenza Più c'è 67 Più c'è 7 49 Benissimo Ma Ok Ok Prove 2 Prove 2 Componenti Non è che c'è Messo male Non è che c'ho Componenti messi male Stiamo facendo schifo noi Perfetto Ottimo Proprio Va bene Assetto auto Assetto auto Proprio c'è Minchia male Proprio Sei una roba Che dice Che dice Ma Ma no Ma Ok Qua Allora Ok Facciamo così Ok Ok Facciamo così Va bene Va bene E Paint 3 Albon Albon Vale Vale la trazione Quindi Facciamo così Poi con Ok Ok Va bene Va bene Tacciamo così Facciamo così Facciamo così Facciamo così Prove 2 Simula sessione Avanti Conferma Simulazione Prove 2 Vediamo un po' Se hanno migliorato i tempi 1.48 Allora Albon ha migliorato 1.48 3 La Tifi 1.49 4 La Tifi Peggiora Io La Tifi Amico mio La Tifi Allora 80% Fiducia All'assetto Va bene Allora Bentornati Ok Niente Nuvoloso Cielo sereno Nuvoloso Oddio Vabbè Vabbè Non mi posso aspettare La pioggia in Azerbaijan Però 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 Insomma Allora La Tifi La Tifi Amico La Tifi Amico La Tifi Ok Allora Amico Poi Ok 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 Porca Miteria E' grande Però Questo Devo Allora Ok Quello Devo Devo Aggiustare Ok Ok Questa è male Questa è male Quindi Devo Fare così Poi Ok Ma Aspetta 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 Ripristina Perché Mi sto Confondendo Aspetta Allora Questo Di Tutura Male C'è Proprio Non gli piace Per niente Allora Ok 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 E cosa Che qua Devo andare Proprio Ok La Pida In frenata Però la sterzata Devo Migliorarla Ok Così Però Quel grande Ok Va bene Mamma mia Però la Dif Che sei Difficile Allora Tu C'è qualcosa Che posso Ok Ok bene che ok porca allora ok diciamo così e rettilinei però rettilinei allora questa cosa rettilinei ok 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 va bene dovrebbe poter andare bene ok prove tre dai terza sessione di prove si vanno in questa sessione cosa viene fuori una 48.5 una 49 madonna ma la tifi va sempre peggio la tifi va sempre peggio sul tempo com'è possibile che va sempre peggio la tifi va sempre peggio va sempre peggio va sempre peggio la tifi va sempre peggio allora quello adesso è male quello è male è male è male è male ok e che trazione io in modo devo aggiustare la trazione perché 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 c'è la perché è la trazione il problema è la trazione che c'è porca allora e ora perché manca la così manca la trazione ma porca niente ripristina porca mi te minchia la tifi sei scarso e fai pure il difficile allora ok porca mi te è scarso e fai pure il difficile la tifi la tifi con il bene con tutto il bene del mondo la tifi non è che non è che tu ti possa permettere tanto di 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 far prezioso eh io vorrei dirtelo ma non è che ti puoi permettere tanto di far prezioso eh però porca miseria però 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 essi no non non con la tifi non ripristina vai eh si ripristina la tifi eh ci hai rotto va va bene così la tifi per carità del cielo va bene così allora album album magari album magari album magari album magari allora c'era un parametro ecco ok allora ok ok diciamo così poi no 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 aspetta ripristina 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 allora ok 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 aspetta ripristina ripristina ok allora posso far così ok posso far così ok posso fare così allora direi facciamo va bene così dai facciamo va bene così allora qualifica qualifica gestiamo le qualifiche come alzo no aspetta 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 perché devo fare un giro lanciato scusatemi è grazia del cielo perché devo fare un giro lanciato ma a parte tutto prima del perché devo fare un giro lanciato per non non vedo non vedo allora c'è un'informazione di circuito strategie previste allora si va o sulle due soste medi duri morbidi 11 giri con le medie no scusate perché se faccio una sosta con le morbide faccio 15 giri se faccio due soste con con le medie ne faccio 11 perché non ha senso non ha senso cioè può avere a massimo senso fare la terza ma ma non le medie come primo stint fai le morbide 11 giri a bestia e poi vai ok allora però ok c'ho un'idea comunque io penso farò la seconda per entrambi penso per entrambi farò la seconda e avviamo no aspetta piano di run lanciato meno 3 g mi facciamo a meno 3 giri caspita dai poi albo piano di run almeno 3 giri e non va solo il giro singolo che poi eh dai adesso vai avanti e gestisce le qualifiche qualifiche le facciamo noi noi gestiamo noi allora Albon vai subito si si va bene fammi uscire Albon ok e la Tiffy adesso no c'è la Ferrari adesso porca va bene eh ok allora io siccome l'altra volta a mettere tutto al massimo mi è andato a fangolo alla qualifiche facciamo che stavolta lascio in automatico e secondo me è la cosa migliore lascio in automatico secondo me in automatico se la gestisce meglio secondo me in automatico se la gestisce meglio avanti unica cosa andiamo ok 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 so partito tempo ok vai Albon però già Albon gli rompono le balle già Albon gli rompono già le balle ad Albon dai dai Albon le gomme sono troppo calde perché sono troppo calde c'è gestione automatico per l'altra volta eh non cominciamo allora eh sono troppo calde anche lì là sono sempre troppo calde intanto sto facendo da tappo una Ferrari sto letteralmente facendo da tappo a una delle Ferrari io spero solo che non ok per carità del cielo vai via cortesemente ok allora avanti la Tifi non allora la Tifi va bene mi metto il tempo quella là però non è che ci conto tanto sulla Tifi ecco per le per le per la per una vaga speranza di Q2 Sainz è in due secondi dal 1 e 9 dalla Ferrari e io ho fatto da tappo per mezzo giro immaginate vabbè 7 decimi da da ecco intervallo andiamo così va perché tanto allora comunque la Tifi e Alba hanno fatto un tempo sim follow Oscar 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 ma poi vabbè a posto dai a posto così eh esatto Oscar Gonterx Oscar Gonterx grazie per il follow grazie per il follow caro benvenuto al canale spero che ti divertirai e spero che perdoni ogni tanto la lingua italiana abbandona il mio corpo eh vabbè comunque allora come previsto stiamo facendo schifo ma questa non è la novità io devo capire dopo la ricerca come fa il progetto ah forse si fa la ricerca poi fatta la ricerca si fa il progetto forse è questo il discorso sì allora devo aspettare e finire la ricerca allora adesso sono usciti ah beh sono usciti tutti quelli forti Leclerc Toro Ricciardo Gasly Leclerc Ricciardo Sainz Hamilton giù non dovrebbe essere così forte ma non so Albon te prego fammi un giro bello ti prego ti prego ma niente non ma niente non 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 mi si migliora non si migliora non si migliora Albon figurati c'è la Tifi figurati insomma la Tifi no la Tifi deve sostituire la Tifi la Tifi deve sostituire ma per forza di cosa la Tifi deve sostituire e che ci ho detto vesti allora c'erano tutti dietro c'erano tutti dietro allora vediamo un po' come andiamo con il terzo come va come va come la va e niente già giallo primo settore sia per la Tifi che per Albon giallo primo settore continuo a superarci tutti tutti nessuno escluso continuo a superarci tutti 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 ci stanno superando tutti Albon forse verde verde è il secondo settore verde è il secondo settore per Albon verde è il secondo settore per Albon verde è il secondo settore per Albon dai che forse migliori qualcosina distanza 7 decimi da 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 come cacchio si chiama questo qua che sta facendo perché c'ha allora Albon ha accorciato ha accorciato su come cacchio si chiama Zun qua Allora C'è un testa coda Perché? Bandiera gialla E chi l'ha fatto? Va bene La tifi Sempre quello Niente Miglioriamo un poco ma niente Niente da fare Allora io direi Ma non rientra i box? Io può Cosa stai facendo Albon? Perché fai zig zag? Sei già lanciato Fallo un giro buono Santissimi nomi Sì vabbè ciao questo fa Vabbè senti abbiamo capito Allora Allora Ok E siamo già sotto Allora Ragazzi E come sono un po' caldo Aspetta che Albon Albon Ma è rimasto fuori tutto il suo tempo Pensavo Verde e verde Fermi tutti Fermi Eh niente Albon Albon ha già perso il vantaggio Albon ha già perso Già perso la cosa Allora Albon ha già perso la cosa No è però di mettere avanti Quello Che palle Allora Niente Ma comunque Non Perché c'è Hamilton lì? Che ci fa Hamilton lì? Rientro i box Ok stanno rientrando i box Stanno rientrando i box Ok Stanno rientrando i box Però come rientro Li lancio subito con Con un'altra cosa Ok Stanno rientrando Li lancio subito Li lancio subito Che devo provare a fare Hamilton 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 per Kelly Vabbè Allora Hamilton per Kelly Per Kelly Hamilton Per Kelly Hamilton Io Io fare Allora Perfetto Albon No Riconfigura Riconfigura Uno di questi Le Piano di run Piano di run Vabbè Facciamo due giri Non arrivo a far terzo Non arrivo a far terzo Secondo me Vabbè Oppure Vabbè Conferma Dai Latifi Riconfigura Nuove Conferma Dai Figuriamo Non arrivo a far Tre giri Però Però Allora Ritorno in pista Albon Bene E ritorno in pista Latifi Ok Allora Con le morbide C'è Perez Giù Che Che è successo Sta gente Perché c'è Perez Diciottesimo Hamilton Quintultimo Che Viedicesimo Che cosa Straccaspita Sta succedendo Qua Che sta succedendo Qui Allora Allora Latifi Vabbè Non ci credo Manco Oh ma Siamo Veramente Così schifo Stiamo facendo Siamo ultimi Avvenuti Porca miseria Ok Allora Io devo Ho fatto ricerca Però adesso Devo Andare con i progetti Allora Allora Dai dai E comunque Non c'è Néa grande Dao con Non c'è Insomma Un po' di F Sommando Un po' di Instanza Allora Facciamo Di più Intervallo Facciamo Leader Ecco Che qua Eh minchia Due Ah no Sette decimi Alla fine Sette decimi Difficile Da recuperare Ma Vabbè Ci dobbiamo provare Per forza Allora 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 Eh Ok E adesso Giro lanciato Giro lanciato Per addon È il Terzo GP Che stiamo Ultimo Appena C'è qualcosa Che non va Eee Vabbè Si E già Siamo Abbastanza Accordo Con questo Devo Un attimo Ho fatto Ricerca Non ho fatti I progetti Magari Gli altri In frattempo Sono cresciuti Eee Il discorso Eee Ok E proprio Stiamo sempre Sul giallo Allora Non arriviamo A fare Più di un giro Oltre a questo Non andiamo Mi sa Non riesco A capire Che sta Succedendo Comunque Ci vuole Veramente Insomma Ci fa Un po' Del lavoro Eh Perché Siamo Combinati Così Albon 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 Secondo C'è Miglior Tempo C'è Miglior Verde Nel secondo Nel secondo Settore Dai 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 Eh Vabbè Migliorato Un po' Ma non basta Diciassettesimo Albon Diciassettesimo Migliorato Un po' Non basta Hamilton Sedicesimo Perché sedicesimo Hamilton Che gli è successo St'uomo Perché sedicesimo Hamilton In base a che cosa Vabbè Ah Ora c'è Latifiche Vabbè Vabbè Allora Zone E Perez Ma aspetto Che ci Mi superino Tutta serena Onestà Allora Perez Sì L'ha superato E Che Niente Non Non ce la facciamo Non so perché Qualifiche Stiamo andando male Ma perché Vabbè Ma che Vabbè Allora Cara Più c'è 85% Sì Assetto Autotech Che 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 Vuoi Che vuoi Dalla vita Mia Che vuoi Dalla vita Mia Sono lettore Posso E Va bene Così Latifi Vai Latifi Vai Aviamo la gara Ma porca Mi fia Ma stiamo Veramente Andando Di un male Ma di un male Allora Ok Ok Albon Agressivo Vai Aggressivo Agressivo Pure tu Però Non Non fra di voi Santissimo Il cielo Non fra di voi Ma porca Di Quella Mannaggia Non fra di voi E che Vabbè E niente Vabbè Non fra di voi Non fra di voi Mannaggia La miseria Non fra di voi Dovete superare Gli altri Gli altri Gli altri Non fra di voi Gli altri Se tenga Con gli altri Non ho dimenticato Di cambiare Le tattiche Gli altri E senza le tattiche Non mi fa fare I boc I cambi In box Sì andiamo un po' scusate no non posso cioè non posso onestamente fammi fammi che sia la gara eh la gara ok 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 va bene va bene va bene che non avevo impostato le tattiche cioè va bene va bene tutto però allora ok come non è stato ma che stai dicendo 85% va bene così va bene così ok ora ora le tattiche le tattiche allora allora facciamo una cosa la tifi è A tanto è causa persa Massimo può andare per eliminazione degli altri mentre lui metto B ok solo che allora io devo impostargli eh ok ritmo attuale devo farlo partire forte poi vediamo anzi faccio partire così poi vediamo sì oh dai ok no ok perché me lo toglie poi aggiorna strategia B ah ecco devo cliccare così perfetto deve partire forte deve partire forte e questo va bene poi va bene così che cosa è vai avvia la gara dai parto forte poi scalo va bene ok dai io chiedo scusa non avrei finito la gara cioè quindi piuttosto all'album ma perché io gli avevo un po' stato attacco dai anzi facciamo che sì ok ok allora album o album è dietro io io ahhh album è dietro la tifi quanto ti quanto ti devo andare quanto ti devo girare male le cose sì ecco ahhh poi abbiamo la Ferrari là davanti la l'ultimo che come che sta succedendo vabbè eeeh la tifi allora già che ci sei fai che sia pure tu vedete e poi sei in grado di combinar qualcosa a meno che a meno che caro la tifi non ostacolare il compagno facciamo così eh caro la tifi facciamo così facciamo che lasci passare album facciamo che lasci passare album eh ora pilota ok a posto ok perfetto oh adesso 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 bisogna adesso bisogna andare adesso bisogna andare e per andare io devo ok ah perché ti può programmare vabbè ok ho capito ok però io allora potenza ok potenza ok però però basta ok ho capito potenza va bene dai avanti allora album cerchiamo di andare riprendere il resto del gruppo non capisco ho gestito in maniera sbagliata qualcosa sicuro ma tanto sbagliato allora io ho fatto tanta ricerca ma dopo la ricerca devo fare i progetti io l'ho convinto che dopo la ricerca potevo direttamente produrli invece no dopo la ricerca devo fare i progetti è quello che mi ha fregato gli altri magari hanno fatto i progetti hanno già prodotto qualche cosa io sto prima sto al palo l'ultimo è questo ma vabbè adesso vediamo un po' ah comunque la tifi la tifi devo levarmelo nelle scatole perché è abbastanza evidente che non va ecco è abbastanza proprio evidente ora ti adesso è attivato va benissimo allora quanti g sono 51 ma breve come campione dovrebbe essere breve dai dai albon dai albon dai albon ok che a tre giri già 92% dai dai che si può dai che si può grande albon dai dai albon dai albon dai albon e prende gli altri dai albon dai albon avanti avanti vai a prendere gli altri vai a prendere gli altri vai a prendere dai albon e dai e dai in power dai in power la facciamo in power per questo dai albon almeno vallo a agganciare poi si vede purtroppo timore che fra un po' finisca ma vabbè dai albon dai che accorci dai albon ecco se magari siamo fortunati se magari siamo fortunati c'era di qualche cosa ne approfittiamo dai dai albon ma una bella safety car che a un certo punto tipo intorno al intorno al 17 18 un giro una bella safety car no non farebbe schifo dai dai niente comunque albon non riesco a riprendere gli altri su uno da questo un po' su stroll vettel dove ma vettel vola vettel che cacchio gli hanno messo gli hanno messo i rai gli hanno messo i retrorazzi alla macchina di vettel non lo so allora dai oh c'è la vuoi fa su uno da è lì su uno da è lì abbiamo il figuro abbiamo cambiato lo sviluppo siamo invece peggiore invece migliorare e peraltro io ho fatto ricerca perché volevo puntare trova qualcosa che che intanto trova qualcosa che come posso dire un salto di qualità sono convinto che una volta fatta la ricerca potrò direttamente produrlo invece devo fare poi il progetto cannato lì ho cannato là è quello il problema ho cannato là comunque adesso come fare se ho un secondo se sono da stroll lì allora allora io purtroppo non penso ad avere slot per altri progetti se no posso sperare che nel frattempo finisca la cosa di progettazione magari la struttura della progettazione magari con un progetto in più possiamo fare progetto del telaio e a quel punto miglioriamo un po' e si produce purtroppo saremo un po' a soffrire allora mi sa allora vabbè Latifi Latifi non sto neanche a parlarne di Latifi porco ah beh calma calma si può niente comunque ha perso di nuovo su Tsunoda dai Albon dai Albon ok allora ok 3 comunque il gioco è bello ma mi lascia i dubbi possibile che tutte le case sono uguali non piove mai succede proprio poco allora sul non piovere mai siamo d'accordo succede poco o non è vero perché ci sono state gare dove c'erano incidenti safety car le cose succedono l'unico dubbio è che ho in effetti sulla pioggia siamo a non so quanti gran premi questo almeno settimo gran premio ottavo non lo so c'ero sicuro di gran premio non ho beccato pioggia tra qualifiche e e e gara tutti questi gran premi non ho beccato una volta la pioggia che sia una e questo in effetti allora io devo andare di neutro però allora e questo in effetti stona cioè mai beccata pioggia mai vabbè non ma cioè per senso di realismo non mi aspetto la la pioggia qua qua a Baku non me l'aspetto a Baku la pioggia ok però abbiamo tutta i gran premi dove la pioggia ci potrebbe stare insomma ora allora Albon comunque si abbiamo effettivamente cannato un po' sviluppo fatto ricerca ok ma dobbiamo fare progetti e soprattutto mi sa io devo cambiare devo cambiare ingegneri io devo cambiare ingegneri mi sa eh perché non lo so qualcosa mi dice che non ho che non ho ingegneri buoni qualcosa mi dice che non ho ingegneri buoni quindi mi sa che c'è a cambiare pure quelli ok e vabbè ci siamo di nuovo ok allora allora io quello che posso fare è quello che posso fare è tanto così andiamo avanti perché non mi sembra che succeda granché poi non lo so album io ho superato stroll ma su no da ma su no da niente su no da non lo so album su stroll lo so anche se niente lo continuiamo ok io ho album su stroll niente va via tu no da ok ok il latifi proprio c'è latifi latifi comunque veramente una ok siamo alla finestra va bene fine la finestra allora allora ma latifi che come io ho messo ah vero latifi ho dato le medie vero latifi ho dato le medie latifi la sosta è prevista molto più avanti allora anzi io a sto punto ritmo no è sempre aggressivo andiamo aggressivo comunque ci sono allora sul fatto che stranizza parecchio l'assenza di pioggia sono abbastanza d'accordo c'è un senso non c'è è strano che non c'è la pioggia è quello il discorso che mi stranizza è strano che non c'è la pioggia perché altrimenti succedono gli incidenti tetticar cose succedono più o meno in linea con quello che è la forma 1 reale ci sono le cose ripeto mi stranizza che non c'è la pioggia ripeto non avessi beccato pioggia giusto a Baku vabbè qua Baku non Afghanistan a Azerbaijan avessi beccato pioggia in Azerbaijan vabbè mi faremo e fa ridere in tutta franchezza su no dai box e allora attacco spingiamo 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 ora con suonoda spingiamo suonoda in box proviamo a spingere un po' e Latifi Latifi ce l'hai dietro Latifi no vabbè io provo a spingere lo sono provo a spingere il più possibile ok vabbè farmi qua Zhuang la ma aspetto che mi tuperi non è non posso pensare che non mi tuperi però allora però allora spingiamo il più possibile però suonoda non suonoda mi riprendo uguale lo svantaggio su Vettel 10 secondi no raga proprio no proprio no no proprio no all'aggressivo ok eh devo allora allora no aspetta aggressivo dai attacco perché vedo che comunque suonoda perde da riguardo da suonoda poco danniamo quindi ok che album l'ha ripresa ok va bene ok seguendo la la tattica la tifi vabbè lasciamo stare caliamo un velo pietoso sulla tifi va bene io direi allora io finché sto continuando a guadagnare suonoda io continuo ad andare cioè suonoda continuo a guadagnare dai 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 ok ora ora tira che c'è quello ideale il giro ideale è questo però sto perdendo forse forse sto perdendo sì allora ok album c'è un box ture box questo giro dai la tifi vabbè la tifi fai come ti pare la tifi vabbè ho visto che sta cominciando stava cominciando a perdere da cioè suonoda stava assottigliando il vantaggio quindi piuttosto ok va bene allora ora calorie metto faricolette solo aggressivo perché devo anche durare un po' con le gomme dure allora mi ha accionato davanti ma di tanto anche niente eeeh ci ho sperato ma niente ma boh signori eeeh così si va fino alla fine eeeh ok eeeh aggressivo normale va bene si va così fino alla fine e il resto e il resto si spera che sia allora intervallo eh no è quello non è non c'è il bug è quello l'intervallo intervallo è quello vabbè allora adesso con le dure dovrei andare fino alla fine vediamo pneumatici stroll c'ha le dure sono da c'ha le dure tutti c'hanno tutti tanti a noi c'hanno le dure hanno tutte abbiamo tutti la stessa tattica tutti tutti la stessa tattica tutti la stessa tattica signora tutti la stessa tattica niente eeeh allora allora e allora ok adesso sinistra risolta per la tifi allora ok ora la tifi canto la tifi al massimo no ok strollo su album e vabbè incidente virtual safety car ok la tifi la tifi la tifi la tifi adesso la tifi adesso la tifi adesso vai box questo giro vai la tifi adesso album porca miseria ok ok porca miseria album porca miseria album allora poi virtual safety car neanche quella normale solo la virtual allora dai poi riprendo magari accorciamo allora ok ok allora ciò va con le dure c'è un po' di gente va in box vabbè la tifi sto mandando in box adesso magari con la virtual safety car diciamo nulla con lo svantaggio ma vabbè tanto ultimo è ultimo rimane e sta per terminare ma come bo sta per terminare adesso sta per terminare adesso ma oh vabbè raga e allora e allora ditelo qua c'è anche un po' di sfiga però qua c'è anche un po' di sfiga volendo c'è anche un po' di sfiga perché perché porca miseria perché porca miseria e che caspita allora dico io dai box mi dai albon per favore è la tifi c'è anche sfiga finisce la finisce la safety giusto giusto quando deve entrare il mio ibox che l'ho messo subito ma tantissima allora adesso noi torniamo fino alla fine è quello discorso andiamo qui alla fine vedete soltanto i pneumatici allora abbiamo meglio rispetto a stroll ma mettere fresco allora albon ok la tifi è la tifi che devo dire la tifi che devo dire la tifi che cosa volete che vi dica di la tifi vabbè niente allora ok sono unita non lo so magari è corcia non lo so e noi stiamo sempre là più o meno allora io dire questo punto va andiamo avanti e aumenta il vantaggio lo svantaggio aumenta non lo riprendiamo non lo riprendiamo e dire adesso lo attivi che cazzo adesso lo attivi maledetto allora potenza vai ok 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 mamma adesso lo attivi di adesso vabbè allora quindi 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 allora andiamo calmi e ho capito dai lascia fa lascia fare andiamo vai lo stesso non c'è batteria poi è uguale se ne frega amoni allora andiamo così allora c'ho bottas a 7 secondi latifiche che l'abbiamo perso allora a questo punto andiamo scorriamo veloci scorriamo veloci scorriamo veloci che le sono unici e 20 questo ormai bottas ormai ci sta riprendendo tra l'altro eeeh no vabbè comunque si abbiamo cannato lo sviluppo vabbè eeeh niente siamo gli unici che mi migliorano ok devo mettere vabbè capito allora intanto non va in box più nessuno siamo tutti tutti con una tutti con una sosta album si è ripreso la posizione alla bottas vabbè dai niente come non vengono c'è stato un incidente in pista come incidente bandiera gialla chi incidente di chi incidente di zoo zone ah safety car no il gran caso chi se ne frega può morire in un angolo va bene ok album che comunque lotta con bottas dai almeno ci regala queste emozioni e non ci regala queste emozioni 67% di donne ma è per così tagliatti come sono me va bene è più o meno lì dai vallo ok allora va bene intanto qua ok andiamo va zoo ah vai box ok giustamente dovevo andare ok e bottas va bene niente l'alfa romeo guadagna una posizione e niente vabbè niente no allora devo c'è 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 da sì c'è qualcosa che non va su nota stroll e però no e vabbè c'è la c'è la fa qualche cosa ragazzi allora ma è sta andando così purtroppo vanno così sta andando veloce perché purtroppo la gara non ha granché da dirci purtroppo non ha granché da dirci c'è però ecco persi sta pure facendo il doppiaggio la tifi la tifi 50 secondi la tifi imbarazzante la tifi imbarazzante 50 secondi dal penultimo la tifi è proprio una roba che non si può vedere aspetta un attimo scusa un moto d'orgoglio vai in potenza un moto d'orgoglio cioè dai un moto d'orgoglio almeno come box come box ah vabbè perché allora si ho capito chant leclerc allora dai niente alla fine vorrebbe non ultimano e niente vabbè eeeh niente ok allora io ho fatto ricerca ma devo organizzarmi un po' meglio devo organizzarmi un po' meglio con ricerca e tutto quanto ho un punto sviluppo per vabbè 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 io c'è un po' imbarazzante il tutto un po' imbarazzante allora weekend 4 giorni prossimo weekend di gara è una gara difficile ok post gara briefing allora allora è cacchio allora nicola latifi un punto sviluppo frenata vabbè tanto oh 74 latifi wow allora albon non ce l'ha pur c'è non ce l'ha va bene allora andiamo avanti che succede è campremio del canada obiettivi per obiettivi per qualifica vabbè ok allora 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 gara auto assemblaggio auto vediamo un po' io voglio soltanto vedere gruppo propulsore ok eeeh dettagli occhi condizioni 80% earth dettagli 83% scatola del cambio dettagli 65% allora qua più o meno possiamo andare e auto 1 auto 2 gruppo propulsore dettagli 89% earth dettagli 82% cambio dettagli 85% ma io posso vedere un attimo scusa perché io comincio a pensare dettagli non c'è la non c'è non c'è le condizioni quindi allora senti allora piloti personale io io c'ho dei ingegneri c'ho capo dell'aerodinamica che allora squadra ingegneri ok ok aumentiamo gli ingegneri vai ok poi scelte progettazione livello 2 sta aumentando aggiornare ah non l'ho messo quanti soldi abbiamo 16.000 vai aggiorna si aggiorna aggiorna abbiamo bisogno di abbiamo bisogno di 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 8 per fare il sviluppo allora personale auto piloti personale su tu tu auto ok progetti in corso chi cerca a lettore anteriore sto a lettore anteriore progetto sto facendo allora allora se sei vai conferma così accorciamo i tempi dai ricerca pancia pancia laterali quanti giorni mancano ok conferma dai avanti allora dobbiamo spingere ok ricerca abbiamo fatto ricerca allora 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 nuovo progetto produzione progetti ok calma 11 giorni 26 quell'altro ok premio del canada oh voglio però faremo magari più perché andranno veloci perché purtroppo temo che saranno un po' tutti uguali allora prove 1 prove 1 allora latifi pur c'era a posto di latifi si fa si fa lui le robe ok io facciamo così ok allora porca allora aspetta aspetta che qua c'è qua c'è un casino allora allora ok trazione però allora qua però trazione pure devo mettere qua c'è allora ok qua nooo aspetta ok però no ma la campana tono negativo facciamo così poi 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 mmm mmm allora ok ok sto sto venendo a capo ne sto venendo a capo ne sto venendo a capo diciamo così tu che sei tu che sei vabbè pur c'è finchè pure io che ho perduto sto tempo per pur c'è allora poi album mmm albom intende che t'ho capito che cosa che cosa vuoi allora ok ok le linee però allora facciamo avanti l'olio però la sterzata la sterzata potrebbe allora ok facciamo così R2 dai andiamo avanti eh no restisci no simula simuliamo tutte le prove simuliamole tutte che qua qua è un casino allora poi poi allora che cosa qua scusate un attimo facendo una cosa che via ok ok ora scusate un attimo il successivo ok scusate devo fare un attimo una cosa ok perché mi sono accorto ok allora ok allora allora intanto rispondo ok 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 ci sono cose scusate un attimo ho perso un po' di tempo per una cosa che devo fare allora noi non ho visto i tempi non ho visto niente non ho visto niente non ho visto niente non ho visto niente allora i colori con le esperienze ok una volta ok vabbè ok allora poi raga prevista pioggia attenzione prevista pioggia sta arrivando la pioggia scendina più allora vabbè la tifi 84% dicimi che è troppo bello allora la tifi della serie è proprio troppo bello troppo bello allora allora ok ok no però ok ok allora no allora aspetta ripristina 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 ok poi grande bene allora facciamo così ok mentre minchia album con fiducia 43% cioè minchia della serie della serie se lo mandi se lo mandi a piedi se lo mandi a piedi è più contento cioè allora ok però se faccio così tipo ok allora prove 2 però non mi concentro molto su risultati cose perché insomma purtroppo ormai abbiamo capito com'è la situazione al massimo bisogna sperare qualche miracolo vabbè 1,15 effetto 6,1 non tanto nessuna non grande distanza da stroll però insomma allora 51% fiducia l'assetto ma niente albon ma che caspita che vuoi dalla mia vita albon che cosa vuoi dalla mia vita allora e mo si riuscita 51% allora perfetto male male minchione aspetta allora ok 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 aspetta aspetta un attimo e sono tornato a punti di partenza però allora aspetta allora ok 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 se posso riavvicinare un attimo ok 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 aspetta devo ok aspetta com'era qual'era quello che ok ok allora è quello perfetto ma terzato e trazione ok 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 forse forse ci sono ok ok i due perfetti i due perfetti dovrebbero avere mantenute e dovrebbero aver migliorato tutto il resto ok allora allora da che ci siamo eeeh vabbè prove tre timoniamo vediamo come va ok prove tre completato completato tempi vabbè non mi aspetto grandi miglioramenti infatti album si forse forse questo è il suo tempo migliore ah l'abbiamo un attimo l'abbiamo un attimo l'abbiamo un attimo allora qualifiche ora pioggiamo ora secondo me io la la butto lì qualifiche secondo me dobbiamo proprio uscire proprio subito 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 no c'era un ok perfetto ok facciamo così allora qualifiche eeeh eeeh se esiste qualifiche subito voglio subito allora album vai subito dai eeeh latifi vai subito dai dai prista pioggia pioggia leggera quindi significa dobbiamo far subito il tempo sull'asciutto e poi puoi vedere tanto c'è asciutto prista pioggia leggera se è vero se non mi hanno preso in giro se non mi hanno preso in giro intanto porca mi sono sbagliato allora no ok tempo allora tu no ok va bene io dico sto provando a fare cosa che se ho capito bene quello che la situazione potrebbe arrivare pioggia dopo se io intanto mi stampo i giri adesso faccio i giri adesso se magari poi piove se magari poi piove se magari puoi piove e quindi si alzano i tempi possiamo far colpaccio allora intanto una cosa porca miseria ok usate usate una cosa e comunico con allora ok allora ora rientro nel box ma va bene vabbè 13 817 qualcun altro lo sta facendo allora io vorrei onestamente allora ok allora riconfigura Albon a lui se praticamente come intatte io non ho visto le strategie porca miseria vabbè allora piano di run oh cacchio almeno tre giri falli conferma dai poi latifi riconfigura sempre questo piano di run fan 3 conferma va bene ok io però va in pista latifi va in pista va bene una pressa all'altro dai un piano voglio farlo un piano almeno subito così tanto ok ok ah mamma ok sono davanti a stroll michael schumacher sono davanti a ricciardo fermi tutti cosa sta succedendo allora sono davanti stroll mi esce alonso ricciardo albon ha fatto la gara della vita ha fatto la qualifica della vita probabilmente almeno sembra per ora però calma no sti tre giri albon bene albon sembra bene per ora poi poi vabbè tanto vabbè di solito le due ferrari le due redbull devono venire fuori vediamo dai dai allora ma ma albon non ti illudere e no non mi illudo no non mi illudo no non mi illudo no sto calmo o mi illudo sto calmo stiamo stiamo calmi stiamo molto calmi perché vabbè c'è tutti stiamo calmi stiamo molto calmi tanto so che scende vabbè la tifi la tifi c'ha la tifi comunque però si è messo davanti alonso e ricardo e ricardo allora vabbè stanno stanno arrivando stanno arrivando i vari altri niente io speravo semplicemente niente speravo niente pioggia dice per sabato pioggia niente manco da go ma ma niente proprio sapete quando comincia a piovere quando finiamo quando finiamo comincia a piovere allora stiamo calmi stiamo calmi non vuol dire nulla stiamo già scendendo albon che posso capire perché ogni tanto ti fai ste cose io pagabondo che sono io allora leclerc c'è deve uscire leclerc e ci supera deve uscire perez e ci supera magnusen oh vabbè sorprende il negativo alonso e ricardo forse piove in q2 o q3 vediamo non lo so tanto è veramente a 40% percentuale questo è percentuale di possibilità di pioggia credo tanto comunque li faccio allora intanto lascio il gira allora andiamo svelti che già abbiamo fatto tante gare dobbiamo andare svelti ok ok calma ok albono rientra in box alonso e ricardo sono gli anomali gli anomali sono alonso e ricardo gli anomali sono alonso e ricardo sono anomali alonso e ricardo questi due sono anomali questi due l'anomalia sono questi due alonso e ricardo e io adesso li mando questo li mando fuori uno unici si faccia ancora su tre giri se ce la faccio faccia ancora su tre giri io lo mando subito fuori albon non mi sto a illudere che adesso io lo mando di nuovo fuori lo mando di nuovo fuori pesco pesco un treno di gomme morbide lo mando fuori e la tifi anche si sa ma ok perché c'è il punto esclamativo ok perché c'è il punto esclamativo albon albon ok riconfigura dai conferma poi però non ce la fa riconfigura qua conferma e dai completato ritorna in pista vai albon e ritorna in pista pure tu dai bella inquadratura bella posso capire comunque comunque sono tutti usciti tutti oh oh è che ma per ultimi proprio cioè ma proprio per ultimi dovevamo uscire mannaggia voi vabbè vabbè ma po' l'unica flebile speranza la rivolgo ad albon ma ma bu' bu' semplicemente v allora ok 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 bloccaggio diventa la curva 7 ok vettela ha cannato il giro vettela ha cannato il giro è ok qua nessuno migliora sono tutti attaccati l'un all'altro qua nessuno migliora c'è troppo traffico per migliorare i tempi c'è dubito che c'è o almeno aspetta aspetta moderato su riscaldamento ho capito per Magnus e non ok Ricciardo è fan eh vabbè 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 tu sta ma è stronzo sto gioco mi illude fino alla fine porca niente albon secondo secondo albon secondo intertempo verde albon secondo intertempo verde quello quello va supera e ciao non ce la fa mai e albo niente oh e niente non vabbè mannaggia a a a a a quella mannaggia mannaggia a quella mannaggia mannaggia a quella mannaggia e niente vabbè e oh porca ci abbiamo ci abbiamo vabbè però è veramente cattivele pioggia oh pioggia pioggia intensa ora santissimi nomi allora rapporti informazioni circuito medica ok dati sul tempo se ci è previste ordini poi dure medie poi dure medie allora ok slot garanzia ma sei scemo no che slot garanzia allora pioggia prevista pioggia allora 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 secondo me detto molto chiaramente questa rispetto a questa non ha senso c'è io direi più questa poi a meno che io devo modificare questa ma non ha senso questa questa qua sostinta non ha senso che la prima parte me la faccio con le medie non ha senso non ha senso piuttosto faccio così morbide dure morbide anzi 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 se se porto giro un po' più qua no questo potrei fare no dure dure va bene ok ecco così ha senso morbide dure morbide così ha più senso così ha più senso facciamo morbide si parte forte e ok potrei fare magari no ti aumento di un giro ti aumento di un giro che arrivo tipo così arrivo tipo al 40% ecco le previsioni guardate le previsioni da queste parti ti prevede più possibilità di pioggia e allora aspetta un attimo aspetta un attimo esci 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 partire con le medie acquisisce un senso partire con le medie acquisisce un senso che possiamo fare che con le medie arriviamo fino a qua con le medie finino più o meno qua come finestra e ok e tiriamo con le medie quando dovrebbe arrivare la pioggia si mette le quelle da bagnato a questo punto lo stint questo punto lo stint di mor eventuale stint di morbide possiamo portare qui e si fanno 10 giri 10 giri a cannone proprio a bestia e 10 giri a cannone si 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 questo è come l'ho aggiornato io come l'ho aggiornato io si come l'ho aggiornato io ok e facciamo così e la faccio così per tutte e due faccio così per tutte e due sia per albon che per latifi però qua mi sa che la devo aggiornare allora qua di nuovo di nuovo allora qua portare le medie qui le dure le 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 dure qua qua fino a qui che si può anche spingere magari e poi 10 giri di morbide a cannone anzi c'è pure 62 e e per albon fammi fammi aggiornare fammi aggiornare ok così qui qui ok 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 va bene va bene che eventualmente possiamo anche cambiare e decidere di andare fino alla fine ok aspetta un attimo qua devo rì no aspetta ho sbagliato aspetta però allora qua morbide fino a qui poi dure fino a 61 e perché non sbaglio scusate scusate scusa sono un incoglionito quindi qua fino a qui 30 giri e dure arriviamo fino a 61 aggiorna strategia c albon invece ora facciamo modifica ok 63 facciamo 61 ok e aggiorna ok va bene 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 ok Grand Prix vediamo stiamo azzardando stiamo azzardando tanto stiamo azzardando tanto ma d'altronde siamo in tali condizioni che se non azzardiamo non andiamo da nessuna parte allora allora fai madonna non mi sei partito male albon madre santissima sei partito male albon forse la tiffa no è albon ma è albon è quello che forse mamma la partenza bravo bravo albon bravo albon niente come non è scherzavo albon niente scherzavo scherzavo albon albon e ci fermiamo all'aggressivo ok anzi però standard vai va tranquillo di standard vai tranquillo di standard però eh oh che cazzo oh che è successo potenza albon vai a riprenderli vecchi cacchio è successo non è che si è capito vabbè vai però devo andare piuttosto tranquillo proprio perché l'è morbido devo farmele devo farmele durare un po' queste morbide devo farmele durare un po' quindi ok devo dai cerca di accorciare almeno tu poi una volta che ti tenere almeno finire che c'è il DRS cioè devo diciamo tenere sugli altri non devo distanziarmi troppo sennò non li riprendo più allora ok ok album ok album dai dai allora 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 e allora direzze attivo perfetto direzze attivo proprio quando ci siamo avvicinati un po' dai 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 Allora direi andare tu sul neutro, ok, dai, 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 dovresti poterci stare addosso. Dai, ok, dai, la Tifi è già, la Tifi è già distante, però a questo punto anche la Tifi, scusa eh, potenza, vai la Tifi, finché puoi, ok. Va bene, intanto, Albon c'ha il DRS, il DRS, si trascina, ok. Ok, bravo Albon, bravo Albon, bravo Albon, bravo Albon, ok. Ok, però, allora, potenza, vai Albon, vai potenza Albon, magari vai, vai, speranza che vada a riprendere gli altri. Vai Albon, vai Albon. La Tifi, c'è speranza che vada a riprendere le stroller. Campa cavallo che l'erba cresce, vabbè. Va bene, va bene, va bene, dai. Dai, dai, dai Albon. Dai Albon. 6,4 giri in più di carburante sto risparmiando carburante a tempesta, ma non basta per... E' scarica, vabbè. Mi va di aiuto. Allora. Niente, no, 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 Ricciardo, là, non li andiamo a riprendere. Allora, potrei, però, fai di consumo, vai. Tanto, ti hai risparmiato un po', adesso andiamo a riprendere gli altri. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai. Andiamo intanto sul carburante possiamo andarle a riprendere, magari. Ti puoi andare a riprendere, magari. 1,6, sì. Aspetta. Aspetta. Io devo perlomeno agganciare il treno di Ricciardo. Devo almeno agganciare Ricciardo. Devo almeno agganciare Ricciardo. Se aggancia Ricciardo... Eh, ho capito. Allora, te vai su neutro. Te vai su neutro. Ok. Mmmmm. In te. No. Devo andare normale adesso. Ok. Vabbè. Vabbè. Ci ho provato, ma... E non ci siamo. Va bene. Ai, ai, ai. E avevo proprio prestazione in auto, purtroppo siamo messi male. Siamo messi davvero male. E adesso? Io direi. Ok. Ok. Era... Era intorno a metà gara che è. No, era... Ok. Ok. E ho coinvolto un incidente. Per no. Ok. Safety car, che giro siamo? Ottavo. No, è presto. E ho detto fino a 30 giri. Safety car. Safety car. Allora. Posso provare la follia. Metto le dure e andiamo avanti. E andiamo avanti. Metto le dure e andiamo avanti. Finché non c'è... Quel momento lì. Allora. Apri opzioni box. Allora. Allora. Ok, no. Ok. Prova la follia. Tatifi. Vai. Boxe questo giro. Sopassi non consentiti. Perfetto. Ora. Albon. Opzioni box. No. Vettele fuori. Vettele andato. Ok. 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 Poi. Boxe. Boxe. Eh che caspita. Mi fai andare boxe anche con l'altro. Dai. Dai. Opzioni box. Oppure. 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 Oppure ne approfitto con Albon. E mantengo. No no. Niente box. Albon rimane. Albon rimane. Con Albon confermo la strategia. Arriviamo a. Ok. Con Albon confermo la strategia. Che magari un po' le gomme ce le conserviamo e arriviamo più facilmente alla fine di questo Stinto. La Tifi. Però. Andiamo a consentire di allinearsi a tutti. No. Ecco. Dove. 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 Consentirmelo. Allora. Allora. Dai. Dunque. Vettele fuori. La Tifi. Do. Ok. Anzi. Una volta che. Ok. Tu. Una volta che. Tu vai l'accumulo. E a sto punto. Anche la Tifi. Ok. Dai. Ok. Sì. Però. Porca miseria. Dai. No. No. Aspetta. Non è altro. Fammi arrivare prima. Porca miseria. Perché non so come va a finire qua. Allora. Ok. Non stiamo tutti lì? Io. Vero. Vero di accumulo. Ti faccio andare. Però. Devono essere tutti lì. Ok. Mo. Mo vai l'accumulo tu. Mo vai l'accumulo. Allora. La Tifi. La Tifi. Già l'accumulo. E adesso. Albon che è lì. Albon che è lì. Faccio andare conservativo con le gomme. E col carburante. Ok. Ora che è lì. Dai. Ok. Così mi conservo con me. E carburante. Poi per. Per. Per quando ti riparca. Ok. Chiara Tifi. Non ce la far raggiungo gli altri. Neanche casa. E ti car. Però. Allora. Calmi. 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 Dobbiamo stare calmi. Io ho fatto la cavolata con la Tifi. Potevo mantenere la tattica pure con la Tifi. Il Tifi. In questo lado. Capito. Ultimo giro di safety car. Vabbè. In safety car. Vabbè. Allora. Allora. Può entrare di. Standard. Vibrata. Ok. Neutro. Neutro. E anche la Tifi. Neutro. Vai. Ok. Se ti ha conclusa. Ripartiamo. Dai. Ok. Allora. Albon. Ti ha accumulato un cazzo. Eeeh. Torpasso. Vai. Ok. Vai Albon. Però no. Tra neutro. Non ci si però. Potenza. Sorpasso. Sorpasso. Dai. Prova. No. Lo sorpasso. Ok. 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 Va bene. Albon. Un po'. Voglio andare di aggressivo. Per un po'. Almeno per un poco. Dai che ho potuto. Ho potuto conservare un po'. Allora. Dai che. Ciao e fa. Per un po'. Neutro. Ok. Ora fa un po'. Attivare il DRSS. E a quel punto si va. Devo attivare il DRSS. Per un po' di standard per ora. Ok. Non deve rallentare. Non deve rallentare. Ok. Calma. Allora. 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 Che c'è. Che c'è. Aggressivo. Dai. Aggressivo. E a sto punto anche la Tiffi. No. Ah beh. E sia aggressivo. Anche la Tiffi è aggressivo. Dai. Tanto rari. Come? Ok. Ok. E ho comunque fatto la mezza calcolata con la Tiffi. Ho fatto la mezza calcolata con la Tiffi. Ho fatto la mezza calcolata con la Tiffi. Vediamo? Ho fatto la mezza calcolata con la Tiffi. Allora. Fai il soppasso sul stroll Non c'è il buono Non c'è il buono Ma il DRS l'hanno attivato Ma l'hanno attivato il DRS Oppure Attiva Attiva Vai Allora calma Calma Stiamo calmi che si può Stiamo calmi che si può Dai E la prossima volta ce la fare Stiamo calmi che si può Allora Comunque Adesso Stiamo a far passo E ok Dai Ok Sempre aggressivo Ok dai Dai che si può fare Dai che si può fare E Ale Dai Dai che si può fare Olè Ok Adesso Nuova posizione Conquistata dalla Williams Io direi Facciamo Difesa Così Posserebbe essere tu difesa Dai E per asciugare la batteria Vabbè niente E Neutro Vabbè Ok Allora Allora Purtroppo gli altri se ne stanno andando Ok Ok Quindi Allora Allora Ok Allora Stiamo calmi Stiamo calmi Che si può fare Allora Eh Ricciardo Gli altri sono Sono volati Vanno via Purtroppo La macchia non ce l'abbiamo Buona Però Allora Dobbiamo arrivare a quel momento 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 Ok Dobbiamo arrivare a quel momento Ok 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 Rizza carabagnata Sì Dai Ok Ok Tutti hanno fatto la sosta Io no Tutti hanno fatto la sosta Io no Undicesimo Dai Vabbè Hamilton dietro Non so neanche C'è Hamilton dietro Quanto può tenerlo dietro Ogni secondo lo tiene dietro E' già un miracolo Vabbè Allora Figurati Però Tanto sono undicesimo Allora Quindi Quindi Ok Comunque Albon se la sta Cioè Prima o poi Hamilton lo supera Però Albon se la sta lottando Albon se la sta lottando Con Hamilton Ed è che dire Se la sta lottando Poi Hamilton Per carità Lo supera Perché non è che Non ci facciamo illusione Superarlo Supera Però se la sta lottando Quindi tanto Noi comunque La sosta Comunque Dobbiamo farla E una volta Si fa la sosta Ok Sono in persa P4 Posizione 14 Vabbè Fa niente E a sto punto La tifi Scusa La tifi La lenta Le auto dietro Vai la tifi La lenta Le auto dietro Poi Fai Albon Ok Ancora è asciutto E vabbè Hamilton Supera Vabbè Ok Hamilton Supera Vabbè Ci può stare Ok E ho capito Allora Calmi Dai Tant'io Se non c'è la fava Vabbè La tifi E la tifi Allora Calmi Stiamo calmi Se va Come Credo E Vabbè Hamilton Ha già preso Un secondo e mezzo E allora Se va come penso E crede La intortiamo A tutti Perché io comunque Secondo mia strategia Comunque Mi devo fermare Io comunque Mi devo fermare Questi giri Tanto aumenta Per 40% Rischio pioggia Ho con E box Ok Ok Sempre con le medie Come Come Autocom Incidente Come Cosa Come Cosa Sospesa Sospesa La gara Aspetta Aspetta Fermi tutti Gara Sospesa Gara Sospesa Fermi Fermi Che è successo Oh Tempo di avvio Della sessione Meteo Tre minuti Dalla ripartenza Ok Ok Bandia rossa Attiva Non ti sei ritirato La gara Aspetta Merda Pesco L'obbligatore Ok Ma Io non ho capito Pioggia Leggera Allora Pneumatici Pioggia Leggera Pioggia Leggera Significa Le intermedie Allora Ok Ok Pioggia Leggera Intermedie Conferma Per Albon Vado pure In intermedie Il conflitto E la modificherà Va bene Va bene Va bene Ok Allora Pioggia Ok Pioggia Leggera Siamo noi Con l'intermedie Ok E Albon L'intermedie E andiamo avanti così E alla fine Albon Molto calmi Molto calmi La tifi Albon Albon Nono O se stiamo calmi Stiamo molto calmi Stiamo molto calmi Stiamo Ok Stiamo calmi Stiamo calmi Stiamo molto calmi Stiamo facendo Ok Non facciamo cavolate Abbiamo gente Ciò davanti Gente con le dure Con le dure No 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 Come fate Non fate Stronzate Oh Oh Albon Albon Si è bloccato Albon Che è successo Si è bloccato Albon Vabbè Niente La tifi La tifi Sto facendo Madonna La tifi Madonna La tifi Madonna La tifi Come è combinato Pioggia Intermedie Lasciamo l'intermedie Stiamo con Intermedie Minchia La tifi Prima La tifi Prima La tifi Prima Che è tutto Sta succedendo Che fai Calmi Stiamo calmi Siamo calmi Che la intortiamo A tutti Stiamo 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 calmi Stiamo calmi Stiamo calmi Stiamo calmi Stiamo calmi Tanto calmi Romatici come siamo Messi Intervallo Ho tre decimi Albon ok Senti La tifi Albon Per ora vai Per ora vai Non so che è questo Succedendo Ok Stiamo calmi Stiamo tanto calmi Stiamo calmi Stiamo tanto calmi Va bene Va bene Ora Verrà la pioggia un po' più forte Ok Noi dobbiamo rischiarciarla così Dobbiamo rischiarciarla così Soltanto Mick Schumacher E ha messo le wet Proprio quelle da bagnato Noi siamo con le intermedie E ci teniamo le intermedie Ci teniamo le intermedie Va bene la tifi La tifi La tifi Va bene Di 97% Andiamo così Va bene la tifi Restiamo noi Stiamo con le intermedie Stiamo con le intermedie Io non Non fermi 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 tutti Fermi tutti Fermi tutti Allora Stiamo molto calmi Stiamo molto calmi Ah Però adesso è Pioggia pesante Allora Dobbiamo star calmi E tenere Stare calmi E tenere Ok Stare calmi E tenere Stare calmi E tenere Pioggia O avevamo detto Non piove mai Non abbiamo mai visto piovere Oh Una volta sta piovendo Sta succedendo Fermi tutti Calmi Stiamo calmi Stiamo molto calmi Stiamo molto calmi Molto 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 Calmi Ok Va bene Ok Dramatici Allora Abbiamo Vedete Russell ha 4 secondi Da noi 4 e 2 4 e 3 Noi stiamo Noi stiamo recuperando Da zoglio Non ci posso Credere Non ci posso Credere Ragazzi Non posso Credere A quello Che sto Vedendo Non posso Credere A quello Che sto Vedendo No Ragazzi C'è davvero Allora No Vabbè No Allora Calmi Stiamo Calmi Stiamo Molto Calmi Allora E Albon 3 6 Albo Sta Regolando Un sacco Da zoglio Ok Stiamo Tanto Calmi Stiamo Tanto Calmi Stiamo Tanto Calmi Non Facciamo Stronzate Stiamo Calmi Stiamo Calmi Allora E ora La pioggia È così No Dobbiamo Tenere Dobbiamo Tenere Così Dobbiamo Tenere Così Dobbiamo Tenere Così Cioè Non è che Dici Dobbiamo Tenere Così Allora La tifica Ce l'ha Da dietro Albo Sta Recuperando In maniera Assurda Su Zou Stare Mamma mia Albon Mamma mia Albon Fermo Tutti Fermo Tutti Fermi Tutti Fermi Allora La tifi che stai facendo La tifi La tifi che stai facendo Ecco perché Albo Perché Perché Albon Recupera La tifi sta rallentando Zou Fermi 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 La tifi sta rallentando Zou Ok La tifi sta rallentando Zou Però va Basta 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 Per rallentare Ok Ok Va bene Ok Adesso andiamo di nostro Dai Minchia pioggia intensa Calmi Stiamo Calmi Stiamo Calmi Adesso vanno tutti i box Manteniamo la calma Possiamo tenere Un attimo Ehi Ok Ok Scusate Grazie a tutti i box Grazie a tutti i box Grazie a tutti. 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 Purtroppo è inevitabile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Niente. Calma. 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 Vabbè Stiamo perdendo un po' va bene Ha smesso di piovere Ok va bene ha smesso di piovere Adesso ha smesso di piovere Adesso ha smesso di piovere Ora Fa un po' Riprenderemo A essere in vantaggio su tutti Cioè Ok Un po' sarà di nuovo Gara da intermedie Va bene calma 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 E ho capito E albondodicesimo Ok Allora LF Alla Tifi Vabbè Calma E ho capito Però No La Tifi 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 no, porca di quella miseria La tifi E che caspita La tima, porca Non ci... Non è possibile Non ci posso 23 E' assurdo Tattica perfetta Avevo fatto un capolavoro Avevo fatto un capolavoro Porca miseria Mi ho mandato la tifi Vabbè Ok Non so cosa succede Ok Allora Attacco E Ok All'attacco Tanto 93% Dai Allora Vi ho Uh Attacco dell'Aston Martin Che guadagna una posizione E' strolla la tifi Stiamo di nuovo lì Ultimo Stai diventando umida Ok E ho capito Sta diventando umida Vabbè La tifi Stai diventando umida E' Capito Ok Andare così Dica la tifi L'avevo 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 fatto una tattica perfetta L'avevo portato In zona punti Porca Di quella Miseria E niente Invece Invece niente E invece niente Ho fatto L'avevo fatto un Capolavoro Ho fatto un capolavoro Di tattica Porca Miseria Grazie sull'iscaldamento No no Ma tanto Sono intermedia Che cacchio fai Vai tranquilli Vai sereno Mori i recuperi Mori i recuperi Che sono tutti con Sono tutti con Sono tutte con Quelle da bagnato E tu E mo se le mangiano Mo se le mangiano Adesso Le gomme da bagnato Mo se le Di gomme da bagnato Se le mangiano Mo se le mangiano Le gomme da bagnato E noi andiamo avanti Con le intermedie Che per un po' ancora Dai E noi Che per un po' ancora Che per un po' ancora Che per un po' ancora Eeeh Che per un po' ancora 46 Allora Non so Ah E mo adesso però Allora Mo sono tutti con le gomme Era bagnato Ok E ho capito Allora Strono in box Sta appena in box E vanno tutti in box Niente Mi Mi fa Mi fa un po' rabbi Sinceramente Mi fa un po' rabbia Sinceramente Avevo fatto un capolavoro La tifi ha buttato via tutto Avevo fatto un capolavoro La tifi ha buttato via tutto Ha buttato via tutto Tutto Ha buttato via tutto La tifi Ha buttato via tutto E ho capito Non rompere le balle Tanto sono quelli che Ok C'è stato un bloccaggio qui Allora Eh F Mo Allora Non Non è previstato pioggia Quindi Siamo in box E Box Questo giro E Pilota No C'è un in box Box Questo giro Vabbè Ma bo Eh Che devo fa' Peccato 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 Adesso 99 99 e poi così massimo potenza e vabbè album poi l1 in temperatura condizioni guida in aria pulita ma che allora qua ok massimo potenza e spingiamo al massimo adesso non possiamo fare altro che questo possiamo fare altro che questo peccato perché eravamo in zona punti eravamo in zone altissime in zone altissime eravamo niente niente da fare album su strollo ok dai porca amica dai che ce la fai dai vai va bene e ho casito ok date voi così è tristissima cosa peccato 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 c'è proprio non dico creduto ma insomma se ti è bloccato mamma vabbè 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 di questo giro box 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 e niente è tristissimo c'è un passaggio dall'esaltazione totale per un posizionamento che sembrava un miracolo un capolavoro di strategia a questo ci siamo allora pilota non vabbè latifico ha buttato che magari non arriva fra i primi però in zona punti ci arrivava porca miseria ci arrivava in zona punti vabbè riscaldamento non rompe le balle dai niente e niente signori niente è andata così è andata così un giro per staff alla fine un quindicesimo giro che teoricamente potrebbe essere un buon risultato ma che che fa per il quale ci mangiamo le mani ci mangiamo le mani una tattica una tattica una tattica avevamo fatto una tattica straordinaria avevamo arrivati avevamo arrivati cioè un momento eravamo prima e seconda le nostre erano prima e seconda e niente latifi buttato via tutto vabbè signori stavolta abbiamo vissuto delle emozioni la pioggia ci ha fatto vivere le emozioni c'è anche illuso però niente è andata così è andata al punto di sviluppo più uno continuo allora quindi ah ora è diretto appunto già è tardissimo io mi sono fatto prendere allora ok scouting di Dohan prestazioni interessante costui interessante 73 19 anni interessante e è Daruvala tanto per età è Daruvala Enzo Trulli comunque Enzo Trulli c'è devo cercerlo qua Daruvala Dohan 73 questo è è Daruvala dove è Daruvala allora ok 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 Daruvala Daruvala prestazioni è un 75 a 23 anni no questo non è aggressivo no però Dohan dove è Dohan allora allora intanto Dohan ok prestazioni fluidità va bene Adesso lo passo difesa salta riflessi precisione questo lo faccio crescere in una certa maniera questo non è male questo non è male io Dohan questo poi mi aveva allora pilota emergente Enzo Enzo Trulli Enzo Trulli se dice che è emergente scouting dettagliato va bene Enzo Trulli questo è il figlio Enzo Trulli dice a sé questo che è il figlio del famoso è figlio di Arno questo è il figlio di Arno dai è un esagista io adesso onestamente c'ho Jack Dohan prestazioni aggressività elevata potenziale di crescita alto io questo onestamente io onestamente io questo me lo presenti io allora la Tifi io cioè dopo questa l'ho con la tattica perfetta portato in prima alla prima posizione si è andato in piccara al muro io basta 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 la Tifi 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 davvero basta la Tifi basta la Tifi basta basta la Tifi mi meno due c'è un punto in meno overall ma ne ha meno ma ne ha ma ha sette anni in meno ok senti ok allora assunzione offre il contratto ok contratto rifiutato allora ringhezza contratto riprendi negoziazione non gli piacciono cinque straggioni facciamo quattro e aumentiamo dai contratto rifiutato ne vuole di più posta neutra allora 400 dai vai basta oh perfetto ciao latifi è stato un piacere latifi è stato un piacere latifi decenni contratto di latifi ciao latifi ciao latifi tanti saluti latifi è stato un piacere latifi ciao latifi ciao latifi basta 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 mi sono anche stufato di latifi basta così basta così direi decisamente basta così ora centro collaudo componenti ok ok allora diamo un benuto a jack do one bravissimo si bravo 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 ok poi poi aspetta un attimo che centro collaudo perfetto cosa centro progettazione purtroppo ce ne vuole un po collaudo componenti fabbrica quanto siamo messi a soldi no basta così per ora per ora abbiamo già investito abbastanza piuttosto piuttosto io personale allora personale io capo l'aerodinamica questo capo dell'aerodinamica onestamente si per punti delta drs ok tutto molto bello confronta per confronta personale io voglio nessun candidato da confronta nessuno nessuno non c'ho nessuno capo dell'aerodinamica capo dell'aerodinamica io questo è 72 valutazione generale ok sale mindongo vabbè non cambiarlo per uno di più di 2.9 roll non ho fatto niente sale mindongo lingodangodongo no no scusate scusate no 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 allora capo tecnico il mio allora 34 ingegneri di gara e niente sono l'aerodinamica io questo non riesco a allora allora ok david weather ma fronta personale con sale mindongo tenti fio completo se indongo scouting dettagliato su indongo dai scouting dettagliato su indongo vediamo un po' anche se vabbè non è niente di che guarda di scouting posso aumentarla? no meccanici priorità addestramento allora regolazione lettone ma liberato vanno tutte così ma vabbè niente meccanici sono questi qua cercano il mio terzonale capo aerodinamico sono questi non c'è niente di meglio semmai Enrico Balbo non posso proporre contratto Balmfort Balmfort posso correre contratto a Balmfort Cinelli Cinelli dell'Alfa Gerard Murphy no Gerard Murphy non posso ma Cinelli si Cinelli si io a Cinelli posso propoglierlo io a Cinelli prosso scusa fai Cinelli 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 propon un contratto oh scusa allora una stagione no facciamo 5 stagioni disponibili a trattare vai come come ti ok vuole il bonus ok va bene allora bonus iniziale facciamo ok diciamo 100 dipendio minione sette offri contratto vai risposto ok riprendi negozi va bene allora qua devo ok ok facciamo ecco sì così va bene me ne prega niente me ne prega niente offri contratto vai vai ok qua va bene va bene così contratto accettato assumi va bene eh cari ma no sì sì confermo dai ciao Cinelli benvenuto Cinelli benvenuto Cinelli oh dai oh e adesso 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 dovrebbe ok adesso perché perché insomma e perché insomma e perché insomma allora è meno importante e com'era aspetta allora benvenuto Cinelli quindi completato ok visita centro collaudo ok va bene ho già visitato ok ok email al lettore anteriore ah al lettore anteriore facciamo che ne produciamo due e va bene dai ok poi poi per le auto componenti allora nuovo progetto non posso progetti in corso quanto mancano quattro giorni per la ricerca sulle pancie laterali allora qui ok va bene calma qua non c'è più niente ok allora calma non posso avanti ok il contratto di albon sta per scadere ok punto di sviluppo punto di sviluppo ce lo metto sulla difesa ok sta per scadere il rinnovo il contratto di albon ok ok allora rinnovo il contratto facciamo tre stagioni dai vabbè prendeva 600.000 il bonus forfettario mi chiama albon io certo vorrei dire però sei un attimo sei un attimo esoso eh sei un attimo esoso io minchia non ce la faccio però io devo allora ok 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 ho un corretto con un piazzamento to faccia 10 dai 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 rivendi senti toglie bonus non puoi questa e allora 500 500 vabbè facciamo 600 dai diamo i 600 da soia bonus 600 600 di soia bonus dai scusate ora sto per chiudere devo chiudere saputare saputamente perché allora offri contattai che fa vuoi fare dodicetimo dodicetimo dai due stagioni ah così è nessun interesse ciao albon ciao albon ciao albon tanti saluti albon è stato un piacere ciao albon ci metto ci metto pur c'è ci metto a posto tuo to un altro punto sviluppo gli sto andando riflessi vai campo punto sviluppo certo pur c'è a posto tuo continua oh ricerca pancia laterali perfetto adesso adesso ok ora ora oh pancia laterali direi facciamo 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 3 2 così 3 e gariglia del vento facciamo così 34 ore ok priorità ricerca facciamo prestazioni in gara prestazioni in gara e la dinamica ottimizzata prestazioni in gara prestazioni in gara ok anzi aspetta facciamo così si metto equilibrato accendamento motore flusso anteriore facciamo equilibrato va bene impostazioni ingegneri allora 1 2 3 conferma continua dai ho fatto un progetto è un progetto no 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 io voglio farlo porca puttana ho sbagliato vabbè porca miseria ho sbagliato vabbè vabbè pensavo pensavo che stessi allora produzione completata ma è importante ok anteprima gara beh ok vabbè non la vedremo adesso preparativi gara ripeti obiettivi da Q2 questi sono convinti da Q2 niente io non riesco ogni volta sbaglio sempre qualche cosa sono convinto che sto facendo il progetto invece allora niente si risulta allora sviluppo auto produzione porca miseria allora ho parlato entrambe le auto che scatole oggetto vabbè signori per oggi è tutto fermarci fermarci qua anche perché è tardi grazie a tutti quanti voi per esserci stati abbiamo vissuto emozioni di ogni tipo e speriamo bene io ho anche sbagliato porca miseria adesso pensavo di aver fatto pensavo di aver fatto il progetto invece ho fatto di nuovo ricerca porca miseria quindi continuo a non fare niente allora comunque signori detto questo molto amiciamento un saluto a tutti quanti voi alla prossima grazie a tutti